non c'è nessuno ma nessuno eh usti elicottero ustia ce n'è uno in cima alla torre là in fondo ma è distantissimo si ce n'ho non è troppo distante mentre porco dio a terra porco dio non ci credo porco dio a terra che tiro a dio cani registra porca madonna tutto qui passa così di capito